Erie De Luca dice che questo libro somiglia a un'isola e io sono in parte d'accordo. Dice anche una cosa molto vera, cioè che è molto raro che chi presenta un libro l'abbia veramente letto. Quindi chi incontra uno scrittore sappia di che cosa parla. Questa è la caratteristica straordinaria di Luciano Minerva. Uno è un secchione, è preparatissimo, è attentissimo, scrive benissimo, si prepara, si applica. E quindi io credo che questo arrivi allo scrittore. Quindi questo libro è un piccolo tesoro perché ti permette di vedere anche, perché c'è tutto il materiale video, ovviamente le interviste in video, ma lui non ha semplicemente sbobinato e trascritto, ha riscritto quello che sono state le interviste. E quindi è un libro in cui la lingua italiana, la sapienza dell'uso della lingua e del discorso sono assolute protagoniste sia di chi è intervistato ma anche di chi è intervista.